Ciao a tutti, benvenuti a Parliamo di Manga, oggi vi presentiamo un altro shoujo che ho recuperato su internet di recente, è abbastanza recente questo, si chiama Dolce Primo Amore di Ai Minaze, è uscito in Italia negli anni 2015-2016, si chiama appunto uno shoujo piuttosto recente, dunque di casa parla di due amici di infanzia, Kouaru e Natsuki, che sono proprio amici di infanzia nel vero senso della parola, loro praticamente sono vicini di casa, sono sempre stati vicini di casa, hanno sempre giocato insieme, hanno la stessa quasi identica età, hanno sempre vissuto, addirittura le loro stanze, vediamo se trovo le loro stanze, sono una di fronte all'altra e addirittura passando dalle terrazze riescono ad andare l'uno nella camera dell'altra, infatti queste sono le loro due case, le famiglie sono amiche tra di loro, quindi insomma diciamo amici di infanzia e più amici non si può, però che succede? Loro arrivano alle superiori, prima superiore, che pensano di essere semplicemente migliori amici, se lo dicano proprio, se tutto il resto delle loro amicizie insomma li vede già insieme e quindi diciamo tutti il mondo esterno è più malizioso di loro, loro pensano sempre ingenuamente di essere migliori amici e questo va avanti per qualche numero, in cui si vede l'evoluzione diciamo da questo rapporto di grande amicizia, quasi come se fossero quasi fratelli, le opertine sono molto belline, a capire di essere innamorati e diciamo questo lo si capisce subito, non ci sono vere sorprese in questo manga, si capisce subito, si sa subito fin dall'inizio che loro sono innamorati, che finiranno insieme e che anche come andrà a finire poi, si sa subito come andrà a finire. La cosa bellina è vedere l'evoluzione di questo primo amore, che poi sarà appunto un grande amore, che però appunto a un certo punto diciamo quando scoprono di essere innamorati in qualche modo finisce, cioè l'evoluzione continua perché chiaramente anche il rapporto amoroso tra due persone che sono state come fratelli non è proprio scontato, soprattutto perché lei, questa ragazzina che è un po' il cliché della ragazzina ingenua, dolce, che vuole bene a tutti, che fa di tutto per il bene di quell'altro, insomma è talmente ingenua che appunto per lei non cambierebbe nulla, però vabbè diciamo a parte questa evoluzione di questo lato amoroso dal quarto numero in avanti, dal quarto numero al dodicesimo, sono dodici numeri, questo manga diventa secondo me un po' noiosetto perché perché magari si concentra un po' sui personaggi, sui comprimari, sugli altri, sugli amici, sugli amori dei loro amici, oppure magari su varie vicende familiari che però vengono sempre tutte trattate con scarsa drammaticità, cioè sempre con una certa leggerezza, infatti è sempre tutto una felicità, come sono felice, questa è la felicità, la felicità, la felicità e qui diciamo risulta una narrazione un po' piatta perché alla fine succedano cose di poco conto, insomma secondo me poteva finire molto molto prima, però diciamo che è una lettura comunque leggera, piacevole, anche se un po' noiosa, adatta a ragazzine di 13, 14 anni, via, che appunto magari si apprestano ad andare alle superiori e magari possono avere questo tipo di ideale amoroso in cui praticamente non succede niente ma siamo tutti felici, detto questo vabbè i disegni sono carini, fanno il loro, ma non c'è neanche, sì, in questi manga di solito c'è un po' anche il cliché del triangolo amoroso, dei rivali, eccetera, un po' c'è anche qui però è talmente sviluppato poco, cioè questi due si amano talmente tanto da sempre e per sempre che alla fine risulta anche abbastanza patetico anche il tentativo di chiunque di ridivideli, insomma, no? Comunque sì, i disegni sono abbastanza carini, fanno il loro il loro, diciamo, il loro dovere e non c'è molto altro da dire, insomma, chi va a letto mi può far sapere cosa cosa ne pensa, secondo me non è un manga imperdibile, però penso lo tirerò per le mie due bambine per quando diventeranno ragazzine e quindi insomma voi continuate a seguirci, mettete mi piace a questo video, guardate tutti gli altri nostri video e iscrivetevi al nostro canale Rifugio del Funghetto! Ciao! Ciao!